Eccoci di nuovo tornati in studio, seconda parte di 7 in punto, se nella prima parte ci siamo occupati della salute della nostra pelle, adesso ci occupiamo di bellezza che parte anche dalla pelle, ma ci occupiamo di bellezza di valore, chiamiamola così, perché abbiamo qui con noi Mauro Belcaro, fashion designer noto ai più, ma anche presidente DOC, una realtà che collabora a questa selezione di Miss Universo, Miss Universo selezione di ragazze che è proprio partita dal Veneto se non sbaglio, ci sono delle prossime tappe in programma sempre nel nostro territorio, la possibilità, l'opportunità ad una giovane fanciulla di arrivare alle selezioni finali e il premio non è indifferente di questi tempi, se non sbaglio mezzo milione di euro? Però io vorrei fare un passo indietro, che cos'è DOC? Intanto buongiorno a tutti, DOC è un'associazione nata 4 anni fa in Italia, 5 anni fa in America, proprio a Milano eravamo in Camera Nazionale della Moda, con Camera Nazionale della Moda esprimo che è un'associazione un'ente che fa il calendario del Pret a Porte a Milano in alta moda a Roma, quindi ci sono un po' tutti i marchi importanti, da Versace, Gucci, tutti quanti, più anche Rosi Garbo che è mia madre. Da 3 anni io ci lavoro anche dentro in Camera Nazionale della Moda, quindi è nato un discorso sia di collaborazione, ma anche di conoscenze in network di tutti i brand più importanti mondiali e italiani. Una sera a cena eravamo con i miei amici, quindi stilisti, come sta andando il mercato, come sta andando insomma, 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 cerchiamo di creare qualcosa. Abbiamo un po' scopiazzato dall'America che esisteva già questo sistema, l'abbiamo un po' modificato a modo nostro in Italia, e abbiamo creato un'associazione che si chiama DOC, Department of Communication, Dipartimento della Comunicazione. E quindi abbiamo diviso le taglie in contenitori da varie regioni per eliminare il trasporto, che è un costo, e il tempo, che è un costo molto importante. Per ogni zona ci serve vari tot di categorie, noi trattiamo la moda a 360 gradi, quindi dalla modella in primis, che sono in tre categorie, dagli artisti, ballerine, cantanti, service, boutique, dentisti, tutto quello che ci serve per noi nella zona, compagnia aerea, più che hotels, più spa, beauty farm. Quindi applicate un po' il meccanismo che ha permesso alla moda italiana di sfondare un po' nel mondo, ma anche di affermarsi nel nostro territorio, per fare business anche in altri ambiti? Eh, realmente sì, perché noi non andiamo in quantità, ma andiamo in qualità, quindi quando il nostro contenitore per ragione è pieno, basta, non entra più nessuno, se non se ne va uno entra un altro, quindi siamo tutti, sia dal personale, ma di aziende, tutta d'eccellenza, siamo tutti un po', vogliamo essere un po', e siamo un po' il top del nostro Made in Italy, quindi noi avendo fatto base, Padua, Milano, New York e Mosca, abbiamo già un quadrilattro per importare il nostro Made in Italy, stiamo lavorando molto infatti sugli Stati Uniti, sulle Russia. E funziona questo sistema a rete? Sì, siamo molto contenti, quindi oltre a implementare il nostro network di eccellenza, ma creiamo anche una famiglia, quindi qualsiasi, sia il bisogno di un avvocato, hai bisogno di una consulenza, di un prodotto nuovo, di una comunicazione nuova, noi facciamo questo, essendo un'associazione, non un'impresa, quindi abbiamo grossi risparmi al top dell'eccellenza in tutto il nostro settore che vogliamo. Questo network non rischia di essere un riferimento soltanto per un'elite? Beh, d'altronde già abbiamo grossi casting, sia per le modelle, ma anche per le aziende stesse, io parlo sia di persone fisiche, quindi il fotografo, ma anche le aziende, abbiamo gli avvocati che vanno a vedere chi sei, cosa fai, da dove vieni, qual è il tuo nonno, bisnonno e chi è la tua famiglia, perché realmente vogliamo lavorare, è un sistema di lavoro, chiaramente crema e seleziona molto inizialmente, ma porta i suoi frutti. Questo sistema di eccellenza è, prima si diceva, insomma, è proprio la strada per un rilancio, perché lei lavora nella moda, no? Sì. La moda sta soffrendo in Made in Italy. Realmente è nato per questo, perché il sistema moda, sia in Italia che all'estero, ha avuto un grosso calo, è stata proprio la crisi a portarci a inventare questo sistema operativo, che a Roma anche all'Università dell'Economia ci hanno dato un premio come giovani perditori nuovi, quindi sta andando bene, abbiamo dei grossi risultati, vediamo intanto un rafforzamento nostro, una crescita nostra, sia aziendale ma anche personale, e un network mondiale che serve a creare sia il mondo del business, della moda, ma anche altri business paralleli. L'Italian Style sta perdendo di smalto oppure ci sono pochi soldi per acquistarlo? E quindi presentandosi in tutte le declinazioni dell'Italian Style vuol dire raggiungere quella fetta di mercato che può permettersi l'eccellenza, che sceglie l'eccellenza, perché poi spesso è anche una scelta l'eccellenza, al di là delle capacità economiche di spesa. Il fatto appunto di presentarsi a pacchetto aumenta la clientela? Realmente diciamo che l'Italian Style, come dici te, è il made in Italy, il vero made in Italy, sappiamo che in Italia ormai non si fa molto caso, quindi puntiamo molto all'estero realmente, quindi tutte le aziende nostre, l'importazione, studiamo sul tuo meccanismo, sul tuo prodotto, l'Europa è già difficile, ma dall'Asia, più dalla Russia, più che dagli immigrati arabi, o l'America, la Sud America, il Brasile, abbiamo questi network appunto per portare anche le nostre aziende e esportare, che vedo che adesso è l'unico metodo per rimanere in piedi, in vita in Italia realmente, se non abbiamo l'importazione all'estero, molte aziende nostre, anche top, sarebbero già chiuse. Si dice sempre che noi produciamo molto bene, ma fatichiamo a renderci visibili, quindi a essere competitivi proprio nella comunicazione del prodotto che facciamo. Doc, lei diceva praticamente nei paesi emergenti, sta avendo un riscontro, quindi riuscite a raggiungere quella fetta di mercato che magari non ci conosce? Si, realmente, perché abbiamo il nostro network, parliamo di un'azienda prodotto, abbiamo la rete distributiva, quindi mettiamo in connessione la rete distribuzione dell'azienda, se è per una modella lo partiamo a fare la sua agenzia, è importante dove si lavora realmente, perché la moda, o comunque tanti lavori, c'è tanto fumo realmente. Noi andiamo a concretizzare qual è il sistema, ecco, quindi avendo la sicurezza e la fiducia di nostri partner che sono associati, noi ci abbracciamo quando ci incontriamo tra associati, quindi non so il significato. C'è una certificazione di qualità. Bravissima, quindi cerchiamo di impostare le cose per lavorare bene. E arrivando a Miss Universo, è uno degli eventi che è organizzato all'interno di Doc, che cosa seleziona? Quindi ragazze a cui viene garantito comunque, perlomeno un percorso se non... Arriviamo a Miss Universo un po' da prima. Doc ha acquisito il marchio Miss Universo su alcune regioni italiane, più anche altri stati, dall'Ucraina, alla Croazia, alla Serbia, all'Ungheria, al Montenegro, all'Albania e alla Croazia. Parliamo proprio di Miss Universo, quello ufficiale. Miss Universo, che è realmente il concorso più importante del mondo, perché... Di bellezza. Di bellezza, chiaramente. È comunque un treno, parallelamente alle aziende, che porta comunicazione. Quindi... È un biglietto da visita importante. Sì, quindi non è solo per le ragazze realmente il Miss Universo, che certamente serve alla carriera, serve al training, serve all'immagine, alla comunicazione, a tutto questo, alla formazione della ragazza stessa, è una possibilità lavoro futura. Chiaramente perché adesso faremo le selezioni, stiamo facendo le selezioni Veneto, poi la finale Veneto che sarà il 12 giugno, in piazza... 12 luglio, se lo sbaglio. 12 luglio, scusa, ho sbagliato. Sono più informata io. Sì, ma... Perché mi sono iscritta! Sto scherzando, ovviamente. E quindi il 12 luglio faremo la finale, poi andremo a Roma, a Roma c'è la finale italiana, poi andiamo a Hong Kong a fare la superfinale. Quindi è un marchio, è un brand Miss Universo? Assolutamente sì, è un brand da molti anni che esiste, lo stiamo valorizzando anche tramite Doc. Ripeto, faccio un esempio... Qual è la caratteristica della valorizzazione che state dando voi a questo brand di Miss Universo, qualificandolo anche in qualche modo? Ecco, abbiniamo la Doc parallelamente, ci abbiniamo tutte le case importanti di moda. Una Miss Mi Veste Louis Vuitton, più che la Miss Mi Veste... Non facciamo nomi, adesso ne devi aggiungere degli altri. Sì, ecco, tutti quanti, perché realmente quelli che, per esempio, faccio l'esempio qui il 12 luglio, le boutique, tutte le boutique che sono nella nostra passerella, che il comune, la regione ci dà la possibilità, quindi facciamo, teniamo a perdere le boutique fino a mezzanotte, implementiamo il lavoro, quindi con Osters davanti alle boutique, che dà un voucher di buono sconto, di gadget, qualsiasi cosa, quindi per implementare anche il mercato. Quindi, ripeto, è un meccanismo di comunicazione per la vendita sul nostro italiano. Miss Universo serve alle ragazze, ma serve anche alle nostre aziende associate per portare la comunicazione e anche la possibilità di vendita. Come si fa a entrare nell'associazione DOC se io fossi un imprenditore? Ci devi mandare un'email con i company profile della tua azienda, poi ti creeremo un colloquio casting, detto, tra virgolette, che poi riferiamo dopo aver fatto il colloquio, mandiamo in ufficio a Milano, naturalmente il report, per esempio, se in Veneto lo devo fare io, il report di cosa penso dell'azienda, i nostri avvocati veneti guardano chi sei, cosa fai, che vuole l'azienda, la tua storia, poi a Milano ci danno 36 ore, più o meno di tempo, se sì o no. Sì per loro, sì per l'azienda, sì, si inizia a fare... Che cosa significa per un'impresa che ha un buon prodotto essere associato a DOC? Un implemento, proprio siamo pratici, di questi tempi è necessario essere pratici, un implemento degli affari, non lo so, in due, cinque anni, di quanto, secondo lei? No, noi andiamo in anno in anno, perché intanto diamo una comunicazione immediata dell'azienda, diamo una strategia di marketing dell'azienda, diamo una consulenza, tutto gratuito, perché sono tutti sponsor, i nostri associativi, una consulenza di immagine del prodotto, cerchiamo di trovare un meccanismo di vendita e naturalmente tutti i nostri associati anche a provare il prodotto, quindi cerchiamo di implementare sia a livello clientele, parlo di un ristorante, può essere un albergo, può essere una spalla... Ma anche dei suggerimenti di prodotto. Assolutamente sì, dopo il nostro servizio, abbiamo il nostro portale, il nostro network, il nostro mail list di 180.000 persone, quindi capisci che c'è un meccanismo dietro molto importante, quindi una persona, un'azienda che entra a far parte dei doc, è già un grosso onore. Essere in un mondo. Esattamente, è una famiglia realmente, tu qualsiasi dubbio che hai, o perplessità della tua azienda, del tuo prodotto, qualsiasi cosa che è dalla tua azienda, può avere un problema non logale, più da un notaio, qualsiasi cosa... È parte di una squadra. Chiedi a noi, noi ti diamo il top dell'eccellenza, il prezzo giusto, che è da fratelli. Ringrazio Mauri, Mauro Belcaro, perché noi abbiamo anche le miss oggi, con tutto il rispetto per Mauro Belcaro, che io potrei preferire alle ragazze, però ci sono le ragazze, perché i telespettatori vogliono anche conoscere queste ragazze e anche la loro esperienza. Ne ringrazio Mauro Belcaro, do la linea alla pubblicità e subito dopo continuiamo a parlare di Miss Universe.